Volevo osservarla da vicino, così decisi di portarla a casa con me. Cresceva in fretta, addirittura tre millimetri al giorno. E poi ha iniziato a pulsare come un piccolo cuore. Una volta raggiunti dieci centimetri, al demon sono spuntate quattro zampette. E a quel punto... Aspetta un attimo. Scusa, ma tu ti sei sbarazzato di quel demon, Kent? O dico bene? No, anzi, l'ho portata a scuola con me. Cosa? Guardi, ho deciso di chiamarla Anna, perché fa sempre questo verso. Anna!